è una novella di circa 80 85 pagine ed è irpi sorani labirinto irpi sorani è un racconto irpi sorani e basta è un racconto che ho pubblicato qualche anno fa e che l'ha piaciuto molto autoconclusivo che parla di caccia di anti eroi vi sto mettendo degli elementi senza spoilerare e di sostanzialmente survival horror ambientato proprio negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale in italia questo irpi sorani è ambientato invece sempre in italia ma nel 1977 ed è assolutamente autoconclusivo quindi potete non aver letto il primo capitolo che comunque vi consiglio di recuperare e gustarvi questo gli elementi sono i medesimi sopravvivenza quindi survival horror un gruppo di anti eroi ma neanche anti non sono proprio eroi devono solo appunto salvare la pellaccia da una come dirvelo senza andare troppo punto nello spoiler da una razza di quasi umani che non ha intenzione di estinguersi del tutto e che ha una grandissima passione per la caccia questa è la storia la trovate in digitale e in formato cartaceo tra l'altro secondo me parlo certo mio favore ma è un giudizio anche oggettivo la qualità dei cartacei amazon è aumentata notevolmente sapendoci mettere mano un pochetto il prezzo è super amichevole sia in cartaceo che in digitale e il primo capitolo è ancora un po meno costoso quindi se volete potete recuperarli entrambi senza spendere nemmeno 20 euro dovreste spendere sui 17 18 euro in cartaceo in digitale molto molto meno la storia la prima storia il primo il professorani ha una variant cover in cartaceo mentre in digitale ho ottenuto la copertina vecchia ed è piaciuto molto quindi ho ragione di credere che anche questo possa interessarvi tant'è che ho deciso di farne comunque una serie e se tanto mi da tanto può darsi che non so quando magari fra qualche mese uscirà un terzo una terza novella anch'essa autoconclusiva quindi con dei riferimenti a questo background a queste creature che sono il filo d'ariane il filo conduttore di questa saga se vogliamo chiamarla così ma leggibili indipendentemente che è una formula che ho già adottato diverse volte nel mio percorso di scrittore che a me piace molto ovvero non obbligare il lettore a leggere consecutivamente il volume 1 volume 2 1 e 3 bensì gettare uno scenario appunto un'ambientazione con degli elementi fissi in comune ma con dei personaggi diversi in epoche differenti e con storie differenti che potete leggere tutte o anche scegliere quelle che vi interessano di più e leggere solo quelle io vi lascio il link qua sotto lo trovate comunque su amazon ma anche in digitale solo in digitale sulla mia pagina qfi in cartaceo e in digitale invece su amazon ogni condivisione ogni link ma soprattutto ogni link ogni like ma soprattutto ogni recensione è ben accetta e mi è di grandissimo aiuto per portare avanti il mio lavoro da scrittore e il nostro marchio plutonial publication sono previste altre uscite sono previste altre uscite da qui all'estate però non vi dico niente comunque tanta tanta roba e credo che ne avrete abbastanza da leggere e se tanto mi da tanto rimarrete anche sufficientemente soddisfatti